Ogni giorno c'è chi con grande pazienza attende che la natura dia i suoi frutti. Noi di L'Asio Agricoltura lo sappiamo bene, per questo vi offriamo il meglio delle macchine agricole. Siamo concessionari per la Sardegna dei marchi Clas e Landini. L'Asio Agricoltura SRL, a Serramanna e Oristano. Passione per la terra. Ma guarda un po' quell'ubriacone di Naigolan. E' andato all'Anversa, si è fatto richiare la patente, uno che ormai non è affidabile, un giocatore ormai finito, alla deriva, su cui non si può fare affidamento. Bene, l'Anversa, che non è né il Bruges, né il Gent, né le altre squadre che hanno caratterizzato la storia del campionato belga, l'Anderlec, lo Standard Liege e via dicendo, l'Anversa e prima in classifica. E prima in classifica è quando il Ninja ha giocato 5 vittorie un pari, che diventano 16 punti, 16 punti in 6 partite. Direte voi, sì ma ci sono tutti gli altri, sì ci sono anche tutti gli altri, però curiosamente il giocatore è andato a contribuire ad una squadra che non è una squadra che puntava almeno inizialmente allo scudetto, è una squadra che ha fatto bene negli ultimi anni, che è crescita in livello, ma è stato quel giocatore che finora ha dato qualcosa in più all'Anversa per poter diventare alla pari delle grandi antagoniste che si contendono il campionato, il titolo nel campionato belga. E ci viene da riflettere perché in fin dei conti i soldi che chiedeva il Ninja, che in campo certo non possiamo dire che si è mai tirato indietro, non sono molti di più di quelli che prende l'allenatore in più che abbiamo preso. E sì, perché abbiamo preso un allenatore in più, abbiamo preso un allenatore in più che si dice che come contratto abbia un milione e otto. Allora, se avevamo i soldi per il capriccio di semplici non mi piace, a questo punto mi prendo Mazzarri. Perché non li abbiamo spesi per onorare peraltro l'impegno sulla parola con un giocatore che forse è uno dei pochi che è in grado dentro uno spogliatoio di far capire che cos'è l'identità, cos'è l'appartenenza, cos'è giocare per una piazza dove voglio stare e voglio rimanere. Lui, Gio, Pedro, Pavoletti, Cragno, Cepitelli, sono Carboni, sono giocatori che non si toccano, sono i giocatori sui quali tu dovresti puntare per poter costruire quella squadra che abbia una connotazione che porta a scendere in campo non perché sei un professionista di passaggio, ma perché sei un giocatore che gioca per onorare una maglia. Concetti vecchi? Sì, ditemelo ancora che questi sono concetti vecchi. Intanto si vedono tante squadre che proprio in virtù di questa appartenenza, in virtù del fatto che giochino per onorare anche la terra in cui sono nati, la terra in cui intendono vivere, la terra in cui incontrano ogni giorno gli amici, riescono ad avere quel fuoco dentro, molti lo chiamano così, che permette loro di ottenere risultati. Noi abbiamo tanti grandi professionisti, ma pochi giocatori con il fuoco dentro. Ne abbiamo tanti col fuoco spento, forse anche nell'ambito della dirigenza. Ogni giorno c'è chi con grande pazienza attende che la natura dia i suoi frutti. Noi di Lasio Agricoltura lo sappiamo bene, per questo vi offriamo il meglio delle macchine agricole. Siamo concessionari per la Sardegna dei marchi Class e Landini, Lasio Agricoltura SRL, a Serramanna e Oristano. Passione per la terra.